L'anno prossimo la crescita del PIL e dei consumi delle famiglie è destinata ad azzerarsi e ciò contribuirà ad incrementare anche in Veneto il numero dei disoccupati. Saranno almeno 2400 in più rispetto al 2022. Questo perché la crescita del PIL e dei consumi delle famiglie è destinata ad azzerarsi. Un dato negativo ma non drammatico soprattutto se comparato con quanto succederà in molte regioni del centro e sud Italia dove l'incremento sarà più preoccupante. A pagare il conto più salato saranno i lavoratori autonomi. Già duramente provati dagli effetti del covid e della crisi energetica se non verranno aiutati adeguatamente rischiamo di trovarci con i centri storici, le periferie e i piccoli paesi di provincia senza più negozi di prossimità. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre in Veneto il numero dei senza lavoro salirà a quota 107.400 mentre il tasso di disoccupazione rimarrà lo stesso dell'anno in corso ovvero il 4,7 per cento contro una media nazionale dell'8,4 per cento. Le province più colpite saranno Treviso più 827 unità, Padova più 624 e Vicenza più 5,95. Rovigo e Venezia non subiranno variazioni significative. Tra i settori più colpiti potrebbero esserci comparti in mani fatturieri, soprattutto quelli energivori e più legati alla domanda interna.